Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è il momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Per le statali segnaliamo rallentamenti per cantieri sulla statale 62 della CISA, tra Pontremoli e Villafranca e Lunigiana, verso Sarzana, e sulla statale 73 Senesaretina, tra Colonna di Grillo e Monte San Savino, nei due sensi di marcia. Segnaliamo anche lavori di pavimentazione in corso, con senso unico alternato sulla SR429 di Valdelsa, tra i chilometri 65 e 73. Ci troviamo tra i comuni di Empoli e Castelfiorentino. E prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Londra delle 14.45, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 15.15. Muoversi in Toscana infine un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!